Buongiorno a tutti, pelli e brutti, un bacione da Michelone, un buongiorno, un buon buongiorno, una buona giornata a tutti, e... cappuccino, cappuccino, buona colazione, buon cappuccino a tutti, bevo. Giro, 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 sul sul tubo, no. Sai che l'algoritmo propone i video? Capito in un sito che si chiama PaiTV, un sito nuovo, 250 iscritti, è una roba nuova, no? Non so di chi è, non so di chi è. Ho dato una mezz'oretta e c'erano dei ragazzi lì, poi... E c'era Pietro Viercovo, voi ricordate Pietrone Viercovo, damo, quanto ti ho amato Pietrone, quanto ti ho amato Pietrone. E poi c'era questo Barillà, Barillà che è un giornalista, che non seguo, non sapevo neanche chi era, lo sento sempre nominare, questo Barillà, 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 no? Insomma, discutevano questa storia di Sto Allegri. Porca miseria ragazzi, ma sapete che ce ne sono ancora quelli che gli parano il culo a questo qua, eh? Ovviamente i giornalisti, i giornalisti leccaculi, no? Perché io non capisco questo, cioè, a cosa viene in tasca questi giornalisti che gli leccano il culo? Cosa gli viene in tasca a questi giornalisti che gli leccano? E ce ne sono ancora, eh? Cioè, ormai tanti lo hanno sfanculato perché ormai hanno capito, ci sono arrivati anche loro. E ve lo dice uno, ve lo ripeto, che ci è arrivato tardi, eh? Perché ci sono arrivati tardi, perché ho cercato sempre di mettere il caro davanti ai buoi, come si dice, ma dopo basta, dopo. È evidente che questo non è capace, è evidente. Ma porca miseria, ci sono ancora quelli che lo paraculano, eh? Quelli che lo difendono, è perché in un'annata così è riuscito a tenere il gruppo saldo, è la penalizzazione, ti rivela la penalizzazione. Cioè Pietro, Biercomuto, lo ha smardato. Ha detto, no, no, ciccio, no, no. Intanto quei scudetti che ha vinto, ha detto, li avrei vinti anch'io, ha detto lui. Anche mia nonna si metteva in panchina con quella squadra lì, vincevi con gli scudetti là. E anzi, abbiamo anche rischiato di perdere uno col Napoli, quella volta lì in albergo, con una squadra nettamente più forte che faceva vomitare, vomitare, vomitare con quel gioco che faceva lui. Gli ultimi due anni era da spararsi dallo schifo che facevamo. Ma porca miseria, la domanda che si fanno tutti, prima di questo casino, giocavamo lo stesso, facevamo lo stesso, schifavamo. Chi perdeva Monza? Io? Chi è dato fuori in Cempio in quella maniera? Indegna! Indegna, porca puttana! Io? Sampdoria, Fiorentina, Spezia! Ma questo ragazzi, guardate che ci sono delle riprese dietro la sua panchina di gente che gli grida di tutto. vergognati, vai via, siamo la Juventus. E la curva non dice un cazzo, lo sostiene ancora, lo sostiene ancora. Per quello io credo che la curva è una delle principali colpevoli di questa situazione. Perché se tu cominci a contestarlo, vai via, vai via, vai via, vai via, la società deve prendere delle decisioni drastiche. perché non è possibile ancora con questo qui in panchina, non è possibile. Io credo che questo allenatore sia fuori. Io continuo a dire che per me non sarà più l'allenatore del... Bevo ragazzi, eh. Anche perché i ragazzi lo sfanculano tutti. Vedete che le dichiarazioni... Queste sono sfrecciatine che dimostrano che i giocatori... Cioè, questo qua è, come dice l'altro, è un virus. Questo è un virus che ormai si è insinuato dentro e dopo si propaga, prende tutto il corpo. Questo è un virus. Bisogna debellarlo con, non con la solita spigna, con antibiotici potenti. Potenti, perché qui si parla di virus di... Questo è un cancro, questo qui è roba da chemio, ragazzi. Per debellare tutto quello che lascerà questo qua. Ragazzi, guardate che Sarri, Sarri, che povero Sarri è stato boicottato. Boicottato? E diceva, si preoccupano più di guardare dietro che davanti. Si preoccupano più di difendere che di attaccare. Questo ormai era un input che lui aveva dato talmente alla squadra. E poi questo si propaga nei giocatori. Quelli dopo, quelli dopo, quelli dopo, quelli dopo. Per quello dico io. Via polizia totale. Quelli che hanno... E giocato con lui. Che hanno quella mentalità strana. Via. Perché questi, poi, danneggiano quelli nuovi. I quadrado. Sento ancora quadrado che dovrebbe rinnovare una... No! Hai cambiaso. Prenditi cambiaso. Prova con lui. Poi prendi un sostituto. Magari un giovane. Via quei giocatori là. Che poi quadrado è uno degli ultimi che darei contro. Ma i bonucci, i aleksandro, i rugani, un rugani che non serve a niente. Questi qua devono andare via. I quadrado devono andare via insieme a quello lì. Quello lì. Perché quello deve sparire. Vierkowood ha detto che quello lì era da esonerare subito. Via. Fuori dalle palle. Perché ha detto che i giocatori, se gli sei antipatico, inconsapevolmente ti giocano contro. Inconsapevolmente ti giocano contro. E se te lo dice Vierkowood... Meglio di quelle parole lì. Chi puoi ascoltare? Meglio di Vierkowood, ragazzi. Su. Poi quell'allenatore che verrà, ragazzi, saranno cazzi suoi. Perché la Juventus deve vincere. Però a quello che verrà gli darai un anno, almeno un anno, per ricostruire come hai dato a questo schifoso. Gli darai un anno. Eh, perché io sono convinto che quei quattro allegretti che sono rimasti, quando arriverà un altro, gli dirà, eh, avete visto? Eh, avete visto? Quello che verrà troverà macerie, ragazzi. Troverà... Quel poveretto che arriverà dopo troverà macerie. Perché questo ha distrutto quel pochettino, quel pochettino, quel minimo che aveva lasciato Pirro. Due allenatori che sono stati mandati via a calci nel culo da vincenti, nonostante che eravamo ormai già a fine ciclo. Ma questo è anche colpa di una società che non è saputo ricostruire, che ha distrutto. Perché ricordatevi che in quella Juventus lì bastava cambiare uno o due tasselli all'anno per rimanere lì. Invece questi qui hanno azzerato tutto. Ragazzi, azzerare tutto di quel periodo lì, che eravamo fortissimi, eravamo anni, Cioè, ti devi mettere l'impegno per azzerare tutto. Soprattutto tenendo questo schifoso. Questo è il primo che deve andare via. Poi io capisco che devono andare via anche i giocatori, perché quelli che ho già nominato e quelli che hanno giocato contro devono andare via. Perché tu sei un infame se giochi contro. Sei un infame perché piaccia o non piaccia, tu fai quello che ti dice l'allenatore perché sei pagato per fare quello che ti dice l'allenatore. sei strappagato. Prendi miliardi, miliardi. Poi a fine anno vai fuori dal cazzo anche tu. Se non ti comoda. O se no vai in società e gli dici o io o lui. Sì, uomo. Non giocare contro. Porca di una miseria. Si gioca fino a fine anno. Poi a fine anno si tirano le conclusioni. Vai in società e si parla. Perché danneggiate la maglia, danneggiate la maglia, danneggiate la Juventus, danneggiate noi tifosi e poi ci girano i coglioni. Io, fino a quando questa società non si mette in riga, ve l'ho già detto, non gli compro più neanche un paio di mutande. Gli ho detto anche in uno short. Non ti compro un cazzo. E vi ripeto che io ho solo uno che spende, perché non me ne frega un cazzo. Per la Juventus questo ed altro, ma non ti compro più un cazzo. Ok ragazzi? Un bacione a tutti. Belli e brutti. Ci sentiamo la prossima. Grazie sempre ai nuovi iscritti, agli iscritti che ci sono già. Un bacione a tutti, perché Michele vuole bene a tutti. E vedo anche che non ci sono persone stronze, sono persone che parlano, si può discutere, perché io non voglio persone stronze, voglio solo brave persone. Interisti, milanisti, napoli. Non me ne frega. A me basta che si parli. Si parli lo smottotto. Quanto. Quello che volete. Basta che si parli. Non voglio puttanate, la mamma e il papà, come ci sono in certi canali che si smerdano la madre dietro. Queste cose a me non vanno. Quindi benvenuti a tutti. Un bacione a tutti. Belli e brutti. Buona Juve sempre. E ricordatevi che un iscritto al giorno toglie il medico ritorno. Tu che mi guardi adesso, iscriviti al canale. Buona.